buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale oggi parleremo di un audio molto potente che risolverà il tuo problema di fibromialgia dal titolo no fibromialgia no fibromialgia tu lo sai meglio di me se hai questo problema e ti trovi qua che è un dolore cronico che hai da tantissimi anni e che non esiste nessuna forma di cura seria e concreta premetto che la mia non fa diagnosi non è una diagnosi non fa terapia non fa cure devi sempre 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 andare dal tuo medico curante o il tuo medico specialista per chiedere a loro l'autorizzazione se utilizzare quest'audio mp3 dicesse al titolo no fibromialgia però detto ciò premesso ciò in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi sappi che una cosa non esclude l'altra e con questa audio mp3 dicesse dal titolo no fibromialgia che gli scarichi direttamente premendo sul link sopra o sotto dal sito in qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi comodamente a casa tua senza dare conto a nessuno tu te lo scarichi lo carichi sul tuo cellulare o sul tuo computer oppure sul tuo lettore mp3 premi play segui le istruzioni facilissime alla prova di un nonno di un pigro e di un idiota e vedrai il miracolo della tua mente sparire questo dolore cronico chiamato fibromialgia che colpisce i tuoi muscoli il tuo scheletro che non ti fa dormire la notte che non ti fa vivere durante la giornata che ti fa veramente stare male con tutta la tua famiglia i tuoi cari e che non ne puoi più però io ho aiutato tantissima gente a los angeles in tutto il mondo compreso la dottoressa lina prunini il professor dottore michelanghel garai e molte volte senza spendere soldi e soltanto con un audio mp3 dicesse no fibromialgia hanno risolto i loro problemi anche fino al cento per cento in la minoranza hanno utilizzato anche sessione online di ipnosi dicesse vera e professionale con il sottoscritto che al momento sono sospese quindi ti faccio risparmiare un botto di soldi e rinunciare ad una colazione al giorno per trenta giorni e non provare significa non voler cambiare la tua esistenza vuol dire che ami soffrire invece tu non vuoi soffrire quindi basta a tutti i guru bla bla attorno a te a palestre a discipline alternative chi più ne ha più ne metta cambia finalmente con l'ipnosi dicesse vera e professionale la tua vita da così a così e ricordati l'ipnosi vera professionale non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista e commerciale il metodo dicesse l'ipnosi dicesse è un'ipnosi veramente unica al mondo che si distinguono soltanto per il metodo ma soprattutto per le suggestioni che sono intrise di un antico sapere e che hanno quasi un secolo di vita provate che state su centinaia e centinaia di persone con il tuo stesso problema quindi non devi credere sottoscritto di pensare che l'ipnosi vera professionale riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale nel 1958 dalla chiesa con papa pio nono nel 1847 documentati e vedrai che sto dicendo la verità e anche lo stesso papa giovanni paolo ii papa voi tila il papa polacco si auto ipnotizzava per imparare le lingue straniere ne conosceva ben più di 12 come ha scritto nella sua biografia non esistono effetti collaterali non hanno nessun danno nulla di nulla di nulla si tratta di parole trasparenti pulite che guideranno la tua mente a fare il miracolo della tua stessa mente ok non credere sottoscritto ora i due scelte o rimanere dove sei e friggerti nell'olio bollente per il resto dei tuoi anni con una qualità di vita veramente sotto i piedi oppure fare azione e cambiare scaricarti la di mp3 no fibromialgia e volare immagino quando sarai libero da queste catene cosa potrai fare nella tua vita con i tuoi cari con la tua famiglia con te stesso te stessa visita il mio sito internet www.iprologi associati.com visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere il pro soluzione di cesso il dottore claudio saracino e faccio il condividi con amici parenti perché può essere quel quid con la molla che gli cambia la vita e vista anche il mio finista rame twitter e benessere il pro soluzione di cesso il dottor claudio saracino è una delle grandi caratteristiche del metodo di cesse per concludere che può utilizzarlo anche per un tuo caro che non vuole non può essere aiutato perché ha lettato magari nel letto da tanti anni che non partecipa l'ipnosi di cesse di consente di agire anche su chi non vuole o non può che un bacio un abbraccio alla prossima ciao